Il padre fondatore ci ha ripensato. Domenica Romano Prodi sarà in fila ai gazebo del Partito Democratico per votare alle primarie. Giravolta notevole e inaspettata dopo la dichiarazione del suo disimpegno a proposito della scelta del segretario Prodi cambia idea spinto dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il Porcellum. Lo farò perché il polarismo è a rischio, dice chiaro e tondo l'ex premier convinto sostenitore del sistema maggioritario, evidentemente deluso dalla prospettiva di un ritorno al proporzionale aperta dalla sentenza della consulta. I rischi aperti dalla recente sentenza mi obbligano a ripensare decisioni prese in precedenza, tornerò dall'estero e mi metterò in coda. Pur con tutti i suoi limiti il PD resta l'unico strumento della democrazia partecipata di cui tanto abbiamo bisogno, spiega Prodi, che sembra mettere così nel cassetto l'amarezza per la mancata elezione a capo dello Stato tradito dai 101 grandi elettori democratici. Il professore non si esprime sui candidati, non lo farà, assicura la deputata democratica Sandra Zampa, ex portavoce di Prodi, la quale voterà Civati. Pro Renzi si sono però schierati il fedelissimo Sandro Gozzi e Vittorio, il fratello del professore. La decisione è un bene per tutto il partito, commenta il sindaco di Firenze. Sento dire discorsi strani sulla partecipazione, ma con un milione, un milione e mezzo, nessuno fa quello che facciamo noi, non in Italia, in Europa. La decisione di Prodi gli fa onore, commenta anche Guglielmo Epifani. Fa bene alle primarie e ora in tanti al voto, aggiunge il segretario uscente. Saranno un successo? Rilancia Cuperlo impegnato oggi a Firenze nella Tana di Renzi. Domenica sarà una bellissima giornata, sarà una festa per il PD e secondo me sarà anche una bella giornata per la democrazia italiana. Nessuna manovra insomma per far fallire le primarie sull'affluenza, si gioca una parte della sfida in caso di scarsa partecipazione, il successo sarebbe dimezzato. Io non farò nessuno sgambetto al governo, l'impegno invece di Civati con Letta. Io non voglio mandare a casa nessuno domani mattina, voglio che si faccia la legge elettorale subito, perché è una situazione assurda e non dignitosa per un paese grande e bello come l'Italia, quella di non poter avere anche una democrazia fino in fondo.